guardate oggi ragazzi dove mi trovo, qua è ancora intatto quasi, guardate bene ci arriviamo a Santa Margherita di Belice, guarda quanto è bello anche questa zona se andiamo avanti, cioè io dico che è stupendo stare nei rudi di Santa Margherita perché ci sono delle case ancora, se guardate di dentro, da guardare la struttura che c'è all'interno è stupendo, guardate quartieri ancora intatti, dei quartieri ancora intatti da fare, dei film veramente guardate che c'è qua, bello veramente, ecco perché dico, guardate bene che qua ci abbiamo ancora da stupire questo è quello che dai rudi di Santa Margherita vorrei farvi notare, bellissimo ragazzi, troppo bello